Quali sono le sue impressioni rispetto a questa seconda edizione di Made Expo? Sicuramente delle impressioni positive, nel senso che è la seconda volta che esponiamo, quindi c'eravamo anche alla prima edizione, però abbiamo notato comunque un aumento dell'affluenza e anche del livello dei visitatori, quindi diciamo che è diventata sempre più interessante per noi, un bilancio sicuramente positivo.